What's up a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovo video. Allora io spero come al solito di non dilungarmi troppo nel discorso di oggi, in caso vi chiedo scusa perché sapete che a volte poi quando comincio a parlare perdo un attimino la cognizione del tempo e quindi effettivamente parlo molto di più di quello che avrei voluto. E prima appunto di affrontare questo argomento, argomento che tra l'altro avevo affrontato già l'anno scorso, però magari è una cosa che va ricordata ogni tanto perché mi rendo conto che può essere qualcosa che uno magari dimentica o a cui uno non fa caso. Voglio fare appunto una piccola premessa prima che magari qualcuno fraintenda qual è l'intento di questo video eccetera eccetera. Non sto facendo questo video, non sto affrontando questo discorso con voi per lamentarmi di come è la situazione attuale sul mio canale o per lamentarmi di qualsiasi cosa ragazzi. Assolutamente no, voi lo sapete benissimo che io vi ringrazio sempre per tutto quello che fate per me. Vi ringrazio adesso a maggior ragione perché visto che sono tornata a pieno regime qui su youtube ho visto che comunque appunto diversi di voi hanno apprezzato questa cosa e che diversi di voi comunque guardano i video, interagiscono con i video, commentano, mi seguono sui social quindi io a prescindere comunque vi ringrazio per questo ragazzi lo sapete che vi dico sempre che non vi ringrazio mai abbastanza per quello che fate per me però se oggi ragazzi riappronto questo argomento insieme a voi è semplicemente magari appunto per rinfrescare un attimino la memoria proprio su questo argomento qua. La cosa di cui appunto vi ho parlato già l'anno scorso ragazzi e l'unica cosa che appunto vi avevo chiesto l'anno scorso e che vi richiedo di nuovo quest'oggi è di interagire ragazzi il più possibile con i video. Che cosa intendo dire quando dico interagire di più con i video? Principalmente ragazzi mi riferisco appunto a lasciare il mi piace ok? I video che guardate, mi riferisco più a lasciare il mi piace che ai commenti quindi non faccio tanto riferimento alla questione del commentare i video perché mi rendo conto che magari non a tutti piace comunque commentare non tutti spesso hanno voglia di commentare o hanno tempo di stare a commentare quindi non faccio riferimento tanto a lasciare un commento ringrazio comunque chiunque lo faccia appunto sotto i miei video mi riferisco appunto ragazzi principalmente a lasciare il mi piace perché come vi avevo detto appunto anche l'anno scorso ragazzi è comunque una cosa che a voi non costa niente fare perché è veramente questione di un anno secondo lasciare il mi piace al video se il video ovviamente vi è piaciuto vi è interessato ed è comunque una cosa importante ragazzi per me ovviamente perché dovete sapere ragazzi che in primis youtube stesso comunque nelle analytics quindi sarebbe a dire nelle analitiche quindi nelle varie percentuali che riguardano un canale appunto youtube tiene in considerazione anche l'interazione che ha il pubblico che ti segue con il tuo canale con i tuoi contenuti quindi non è nulla di importante principalmente però era insomma per farvi presente il fatto che questo anche semplicemente il fatto di lasciare un mi piace è un modo per supportarmi fondamentalmente io vi ricordo che appunto ragazzi faccio youtube principalmente perché mi piace perché ci tengo tantissimo al mio canale ci tengo tantissimo a voi e che quindi fondamentalmente ragazzi lo sapete io ve lo ripeto sempre io non ho un ingresso economico da youtube quindi non faccio questo come lavoro perché appunto con i video guadagno veramente poco e niente ragazzi anzi direi più niente che poco e che quindi tutto quello che faccio e non è un modo per rinfacciarvelo o roba del genere che sia ben chiaro tutto quello che faccio ragazzi lo faccio perché mi piace e perché so che piace anche a voi insomma che ci sono diversi di voi che comunque ci tengono a guardare i miei video ci sono diversi di voi a cui piacciono appunto i miei contenuti e vi ringrazio di nuovo per questo quindi tutto questo per farvi presente appunto il fatto ragazzi che insomma visto che youtube non mi dà alcun tipo di supporto economico uno dei modi che potete avere per supportarmi ragazzi per assurdo che possa sembrare è anche quello appunto di lasciare il mi piace ai miei video che guardate quindi io non è che vi chiedo di lasciare il mi piace a prescindere chiaramente però se ci sono appunto dei miei video che guardate che vi interessano particolarmente quindi se magari ci sono serie che vi interessano particolarmente che avete il piacere di guardare un modo per supportarmi appunto ragazzi e di lasciare il mi piace anche perché appunto ripeto a voi costa fondamentalmente niente si tratta di un nanosecondo ragazzi per cliccare appunto sul like e in secondo luogo quindi oltre alla questione del supporto tra virgolette quindi mi fate ragazzi capire che comunque quello che sto facendo quello che sto portando comunque interessa perché non è soltanto questione di views ragazzi perché magari una persona guarda un video ma comunque il video non gli è piaciuto non gli è interessato e quindi poi la cosa muore lì quindi la questione non riguarda le views ragazzi per questo che vi dicevo che l'interazione è importante perché l'importanza non è data dalle views ma appunto dall'interazione che è il tuo pubblico col tuo contenuto quindi principalmente se il tuo pubblico guarda il tuo contenuto e apprezza il tuo contenuto quindi dimostra il fatto che il tuo contenuto gli interessa per questo vi dicevo e che a voi non costa niente ma fate capire non solo a youtube nelle sue analitiche ma fate capire anche a me ragazzi personalmente che quello che sto portando è giusto per il pubblico che attualmente mi sta seguendo e che sta guardando appunto i miei contenuti perché capirete benissimo ragazzi che è vero che io faccio comunque youtube in maniera disinteressata perché mi piace perché è una mia passione mi piace giocare mi piace registrare mi piace editare i video però capirete anche che non ha tanto senso logico ragazzi che io porti qualcosa che al mio pubblico una fetta insomma la fetta del mio pubblico che mi segue perché mi rendo conto anche che chiaramente ragazzi su 10.000 iscritti che ho raggiunto le persone che guardano i miei video sono veramente poche ma comunque è importante per me ragazzi che quello che porto chiaramente interessi a quella piccola fetta di pubblico che guarda i miei video che quindi non ha senso logico che io continui magari a portare qualcosa che non vi interessa o comunque non vi piace per questo vi dicevo ragazzi quando porto una serie e ad ogni inizio episodio vi chiedo un numero minimo di like da raggiungere e il discorso torna ad essere quello ragazzi che vi ho fatto l'anno scorso nel senso quando vi chiedo un numero minimo di mi piace da raggiungere è per farmi capire che quella serie vi sta interessando al punto da voler guardare appunto scusate il gioco di parole l'episodio successivo quindi quando vi chiedo ragazzi riusciamo a raggiungere per dire i 50 like per il prossimo episodio è per questo principalmente ragazzi perché magari uno potrebbe pensare oddio ma perché giogherina vuole sti like ma perché giogherina chiede sti like non c'è alcun motivo strano ragazzi dietro il motivo è legato a tutto questo di cui vi sono stata a parlare fino ad ora è per farmi capire che comunque tale serie magari vi sta interessando quindi se a inizio video vi chiedo ragazzi di raggiungere un certo numero di mi piace è per farmi capire che devo continuare quella serie perché vi sta davvero interessando perché ovviamente non mi conviene nel senso che non conviene ragazzi principalmente a voi che io continui a portare un contenuto che la maggior parte della fetta di pubblico che mi segue non interessa ma non perché a me non mi dà niente perché già ragazzi vi ripeto a livello economico a me comunque non danno niente le serie che porto i video che porto ma di questo non mi interessa ma a me interessa che a voi piaccia quello che porto perché se mi sto ridedicando ragazzi a pieno regime a youtube voglio che abbia senso tra virgolette quello che faccio nel senso che voglio ragazzi portare comunque contenuti che chiaramente vi interessino penso che sia abbastanza logico razionale come ragionamento nel senso che non ha senso che io porti qualcosa ragazzi che non vi piace che non vi interessa quindi è una cosa che non è importante soltanto per me ma importante anche per voi perché se comunque principalmente tenete al creator in questo caso se principalmente tenete a me quindi a guardare me e quello che io porto ovviamente il modo in cui io lo porto è importante per voi che comunque principalmente io porti un contenuto che vi interessi io spero ragazzi che l'argomento il discorso sia abbastanza chiaro perché mi rendo conto che a volte forse straparlo e magari confondo un pochettino le cose che penso quindi spero ragazzi sia chiaro che una cosa che principalmente a voi non costa nulla e non richiede se non un secondo del vostro tempo quanto sia appunto importante per me e anche per voi quindi volevo riaffrontare questo argomento con voi ragazzi perché appunto magari è magari un gesto a cui uno non fa tanto caso a cui uno non dà tanto peso però volevo che fosse di nuovo chiaro quanto ragazzi anche un semplice click un semplice mi piace comunque possa essere importante per il creator e anche un modo comunque ragazzi come vi dicevo prima per voi di farmi capire che comunque supportate quello che sto portando e che comunque guardate da me poi ovviamente potete supportarmi ragazzi anche in altri modi se volete se potete potete vi ricordo abbonarvi anche al canale trovate il tasto qua sotto comunque il link in descrizione in descrizione trovate anche tutti i link dei miei social vi ricordo ragazzi potete andarmi a seguire anche lì un'altra cosa ragazzi che volevo ricordarvi so che comunque la maggior parte di voi già lo ha fatto però in caso doveste esservi dimenticati o comunque doveste non averci fatto caso vi ricordo che potete appunto ragazzi attivare la campanellina al mio canale questo fa sì ovviamente che le notifiche provenienti dal mio canale siano attive per voi quindi ogni qualvolta comunque viene pubblicato un contenuto youtube ve lo notifica giusto un'ultima cosa allora la serie su house of ashes ragazzi l'abbiamo terminata quindi adesso dovrei incominciare una nuova serie horror devo soltanto scegliere su quale gioco me ne avevate già consigliato qualcuno vi ricordo che se avete altri giochi horror da consigliarmi potete ovviamente lasciarmeli qua sotto in commento quindi penso di aver detto tutto vi ricordo che comunque sul canale ragazzi la pubblicazione è quotidiana quindi avrete costanti aggiornamenti su instagram anche nella scheda community quindi buttateci un occhio magari per costanti aggiornamenti io vi ringrazio ragazzi veramente di cuore per la cortese attenzione vi mando un abbraccione un bacione e un saluto ciao ciao